Buona giornata. Capita spesso di vivere singoli in condominio. Capita spesso di vivere la propria vita, come se gli altri non ci fossero là dove siamo, nelle proprie ambienti, nella propria famiglia. Singoli in condominio, eppure chiamati a vivere il condominio, che è vivere le relazioni che abbiamo, non fermarci a noi stessi. Chissà se oggi può essere un'occasione per aprirci di più, quel poco di più che ci consente anche di apprezzare il condominio che viviamo. Buona giornata, il Signore ti benedica.